Bene cari concittadini, cari concittadine, l'invito è quello di venire sabato, come sta scritto, sabato 7 ottobre alle ore 20.45 a vedere questo meraviglioso spettacolo al fine naturalmente di trovare dei fondi per la sistemazione, per continuare i lavori all'interno della nostra cattedrale, quindi del Duomo. Quindi vi invito fortemente ad essere presenti, una bella, bella, bella serata. Sono ancora qui a chiedere aiuto per la nostra cattedrale, la quale ha sempre bisogno di interventi, ha bisogno di manutenzione ordinaria, costante e straordinaria, quasi costante direi, anche se non si può dire una cosa del genere, perché abbiamo in programma il lavoro più importante a cui stiamo facendo la corte da anni, è il rifacimento del pavimento. Poi naturalmente la manutenzione della cupola e la manutenzione dei tetti saranno lavori che come conseguenza verranno e speriamo di riuscire ad ottenere fondi. Non contiamo sui fondi del concerto per queste opere che sono grandi, i fondi del concerto li utilizzeremo principalmente per quella che è la manutenzione ordinaria, che anche lei è costosa. Faccio l'appello ai pavesi, se ci sono, battano un colpo. Buongiorno a tutti, sabato 7 ottobre alle ore 20.45 al Teatro Fraschini Gospel Evolution per sostenere la cattedrale di Pavia. Ciao. Ciao.